Non portò i risultati sperati la domenica cestistica per San Severo. Nel turno casalingo, la sfida contro l'Orasi Ravenna si conclude con il punteggio di 65-66. L'Allianz Pazienza voleva dare continuità alla vittoria contro Piumbino e la buona prova agonistica di Sant'Antimo nonostante la sconfitta. I neri puntavano ad un riscatto davanti al proprio pubblico e ci sono andati vicinissimi, ma gli ospiti hanno saputo sfruttare al meglio le loro occasioni, dimostrando maggiore incisività e capitalizzando quel vantaggio accumulato nel primo tempo poi recuperato nel quarto decisivo. I neri hanno messo in campo grande determinazione riuscendo a rimontare e a portarsi in vantaggio nella terza frazione. Nei dieci minuti conclusivi però si sono trovati di fronte ad una difesa ravennata e solida e a qualche errore di troppo che ha inevitabilmente compromesso l'esito della partita. Alla fine sembrava dovesse arrivare l'overtime e invece a tre secondi e con Sansevero ancora in bonus, gli arbitri fischiano un antisportivo, ritenuto da molti ingiusto, a Pellicano e consegnano l'ovvia vittoria a Ravenna. Ricordiamo che nell'Allianz Pazienza Sansevero 16 punti per Nicolò Pellicano, tra i romagnoli Kevin Brigato e Flavio Gay con 11. Domenica 27 ottobre la squadra sarà impegnata in trasferta contro la capolista Roseto.